Ora, la virtù della castità ha due gradi, imperfetta e perfetta. Nella castità imperfetta l'uso della temperanza e della moderazione è parziale, regolando i piaceri e gli atti nel loro scopo secondo i precetti divini. Nella castità perfetta l'uso della temperanza e della moderazione consiste nella astinenza totale, anche dove tali piaceri sono leciti, vale a dire nel matrimonio. La motivazione per la virtù della castità può essere naturale o sopranaturale. La motivazione naturale può comprendere l'obbedienza alla legge naturale, il rispetto della dignità umana o qualcuno dei molti vantaggi risultanti da una tale fedeltà, totale e perseverante, tra i quali si può enumerare la vittoria sulle inclinazioni contrarie e il controllo della volontà sui sensi. La motivazione sopranaturale è la speranza della risurrezione del corpo in paradiso, l'esempio è l'insegnamento di nostro Signore Gesù Cristo e il rispetto sopranaturale dovuto al corpo consacrato dell'abitazione dello Spirito Santo e dalla ricezione del Santissimo Sacramento dell'altare. I padri della Chiesa, nella loro preferenza per la castità perfetta sul matrimonio, pur non depregando la seconda, enumeravano gli obblighi, gli affanni e i dolori inerenti alla vita familiare. Sant'Omaso specifica tre modi nei quali la castità perfetta è superiore al matrimonio. Essa è un bene divino piuttosto che un bene umano, un bene dell'anima piuttosto che un bene del corpo e implica una forma di vita contemplativa piuttosto che una forma di vita attiva. La castità imperfetta può essere praticata in tre stati distinti di vita. Il primo, prima del matrimonio, rifiutando ciò che è vietato, ma senza rinunciare alla speranza o alla possibilità del matrimonio. Il secondo, durante il matrimonio, regolando ciò che è lecito secondo la legge morale. Il terzo, dopo il matrimonio, dove la vedova o il vedovo rifiuta ciò che è vietato, come prima del matrimonio. Lo stato di perfetta castità, quando è intrapreso per motivi soprannaturali, corrisponde al consiglio della castità espresso da Nostro Signore in Matteo 19. Non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è concesso. Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre. Ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini. Vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Compariamo ora la virtù e lo stato della perfetta castità con la virtù e lo stato della verginità. Vale a dire, la virtù della verginità è considerata come una virtù speciale e lo stato che questa virtù caratterizza. L'essenziale differenza tra la prima e la seconda è che è possibile per una persona che ha peccato gravemente contro la purezza e chi si è più tardi pentito di godere della prima virtù e dello stato, ma non della seconda. In altre parole, la virtù e lo stato della verginità, distinto dalla virtù e dallo stato della perfetta castità, sono irreparabilmente persi dal peccato contro la purezza, sebbene non da un atto di violazione o di intervento medico. Altrimenti, la virtù della perfetta castità è equivalente alla virtù della verginità e lo stato di perfetta castità, o il consiglio della castità, è equivalente allo stato della verginità. Questa virtù e questo stato richiedono una ferma e irremovibile risoluzione per astenersi permanentemente da tutti gli atti e piaceri carnali, cosicché, dal momento che questa forma di risoluzione è normalmente espressa solo da un voto, si può concludere con santo ommaso in effetti che La verginità come virtù richiede una risoluzione stabilita da un voto di coltivare perpetualmente l'integrità. Osserviamo di passaggio che è anche possibile fare un voto di castità imperfetta. Due virtù complementari o connesse alla castità sono quelle della modestia e dell'astinenza. La modestia, o pudicizia, comprende la discrezione nella riserva nell'uso del matrimonio e in ogni cosa che può servire a esprimerla. L'astinenza è la forma della temperanza che si rapporta al gusto. Essa rafforza il controllo dell'anima sopra i sensi, che conduce un'energia spirituale più grande per mantenere la castità. L'astinenza è un'energia spirituale più grande L'astinenza è un'energia spirituale più grande L'astinenza è un'energia spirituale più grande